Questo che non facciano entrare, non facciano la disinfettazione, le platte c'erano e ci sono perché in tutta quella legna che lei dice perlinato, quella che ci viveva, questa marisa, 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 sa macinera, sa burrica, tutta la polisaginata, la cosa? Sa Spagnola! Eh, buono lo so! Poi, potremmo vedere di origine in Spagnola, non può te prendere, il culo e il riso, ma è una carrarina di 25 litri, di Artalia. Beh, non ho visto più di lui. Ludovico, c'è 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 c'è, c'è 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 c'è, l'hanno vista, l'hanno vista. anche a lui qui in piazza come? in piazza, in piazza, l'hanno vista girando con lui a brazzetto, girelli non riusciva a... ma seppure davvero qui neanche le blatte ma le blatte ci sono qui già ne ha portato via con tutto quello che ne hanno preso non ne ha portato via 16 cammi di scatolamene immobili del frigorifero, del lavastello 16 cammi guardate che ci mettono a questa scala il giorno no, il giorno che lei mi ha detto e mi ha detto vuol dire che era contenta si, molto no, lei è contenta io si perché attentava il suo marito si, non c'è un marito si, è avvenuta non l'ho ancora non l'ho visto io spero di no a che pensi era? a Miranda, a Perizzò ma con il suo culo varia una varia nera e si devono in fregola a Perizzò mi ha detto che ce la fa pagare a tutti che mettono una bomba qui e che la mettono? che ci cala il c***o diglielo diglielo tu piuttosto quando la vedi se devi parlare parla delle cose tue e non andrai a portare le cose che succedono qui guai eh guarda non sto dicendo però ce l'ha lasciato tutte le sue Antonello io voglio che gentilmente manino una disinfettazione perché? perché almeno noi siamo contenti perché almeno c'è una persona pulita e non siamo in base anche delle blatte e poi non vediamo che quella signora adesso aveva i mani sì almeno così non vediamo la notte salendo gli uomini e scendendo tutti spraghettati perché era una una cosa allucinante non potevi rientrare più tardi delle undici perché c'era un casino tu adesso la cassetta ce l'hai veditela c'è solo un pezzo di materasso libero perché quel materasso le serve adesca i vecchietti qui in piazza e poi qualcuno se la vuol prendere la briga a vederlo si adesca agli uomini agli uomini anziani le danno le 10 euro le 20 euro e le sporteremo a coberta ma questa è avverente signora quante anni ha? avrà un 54 anni però questo si crea il gioco non è? che l***a è tanti vostro si crea che è il fraghe muscio muscio ma sai no? è fragosa o sa doma è fragosa questo è fragosa pure sa doma questo fraghe muscio muscio fraghe non riduce un'ai tra fraghe su magazzini vantola fraghe vantese su magazzini vantano 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 sui savoni con tutto il grasso degli animali quindi rilasso pensare su fraghe vantano vantano